Stanno 3, un altro olandese, un altro uomo del Beninux, un altro campione del troppo, primo Stanno 3! Bravo! 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 Primo Stanno 3! Prima pass per Stanno 3, per i va, terziere, gesto alle kinder e belge, torce a vattene di liga. Alice, del Paese per le meraviglie, di Brossiano, prima Alice Arzutti, eccola, la campionessa d'Italia, la campionessa del Gran Premio per Giorgiotti. Applauso per la campionessa d'Italia! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.